Dalli un bacino come dai a picco dai fammi vedere Dalli un bacino come dai Dalli un bacino di festa perché festeggiamo il pensionamento per l'esercito italiano di un nostro membro che è Izzetto dell'esercito italiano, classe 1999, ha servito l'esercito italiano sia in attività agonistiche per circa sei anni e poi dal 2005 lui è qui in accademia e ha contribuito all'addestramento di allievi ufficiali dell'esercito italiano e dell'arma dei carabinieri all'equitazione. Dicevo oggi va in pensione per l'esercito italiano perché non ha più quelle caratteristiche che servono per addestrare gli allievi, però siccome è in perfetta forma ed ha quelle caratteristiche che invece gli consentono di fare gli interventi assistiti con animali, lo cediamo all'ASD Equilandia con la quale abbiamo un rapporto che ormai è più che consolidato proprio negli interventi assistiti con animali. Il seto godrà di una seconda giovinezza ma siamo assolutamente convinti anche guardando gli occhi dei ragazzi che sono qui oggi che non solo lui gioirà di questa nuova vita. Quindi grazie a tutti per la partecipazione, grazie ad Equilandia per questa splendida attività che noi vogliamo portare avanti sempre più forte. Grazie. Guarda che la dobbiamo chiudere la caserma, non è che possiamo, non è che puoi stare qui con il set fino a stasera. Se lo potremmo portare via... Un certo problema, noi lo portiamo a casa, mi dispiace molto lasciare la... Grazie. 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 Grazie.